Anche questo, in perfetto stile documentaristico, facciamo, sole negli occhi, ve lo ricordo, la prima cosa che ci capiterà saranno due giri della morte e poi due avvitamenti completi. Poi basta, questo è un momento di attesa angusciante, eh Francesco? Qui c'è Francesco, ed è la quinta volta che lo facciamo oggi, deve essere una malattia penso, ecco, questo è niente, adesso cominciamo. Parte il divertimento ragazzi. Eh 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 Woohoo! Woohoo! Ha ha ha! Oh! Woo! Ah!